Quale sarà l'impatto sull'oftalmologia della trasformazione digitale della sanità? Ne parliamo con il dottor Giuseppe Recchia, un vero esperto che abbiamo incontrato a Genova a margine del congresso Macola in Liguria. Dottor Recchia, lei nella sua relazione ha spiegato che anche nell'oculistica si sta andando verso una trasformazione digitale delle cure. Innanzitutto perché? Quali sono le motivazioni di fondo? Ce ne sono alcune molto di base. Le malattie oculari stanno aumentando, le malattie oculari croniche stanno aumentando progressivamente come conseguenza dell'invecchiamento della popolazione. Come dice il rapporto di cittadinanza attiva il numero di operatori sanitari, in questo caso di oculisti, è ampiamente inferiore rispetto alle aspettative, per cui c'è una domanda di cura che in questo momento è ancora più in prospettiva, non potrà essere soddisfatta con le attuali modalità. Ecco, allora passiamo in termini concreti. Quali sono gli strumenti tra i tanti possibili della medicina digitale che maggiormente potranno impattare sulla medicina oculistica? Allora, la medicina oculistica è una medicina che misura molto e quindi è una medicina elettiva proprio per l'utilizzo delle tecnologie digitali applicate alla salute. Televisita è la base della telemedicina, il rapporto fra il medico e il suo paziente a distanza. Però la televisita da sola ha una certa povertà informativa, deve essere completata con informazioni che l'oculista in questo caso acquisisce dal suo paziente e le acquisisce o con degli strumenti che caratterizzano il telemonitoraggio oppure con delle applicazioni sul telefono o sul PC che permettono di fare il telecontrollo e quindi delle valutazioni, dei controlli periodici che offrono la possibilità di valutare e di verificare l'andamento della malattia nel tempo. E come l'oculista nel suo studio usa degli strumenti molto sofisticati, il paziente a casa fondamentalmente ha il suo cellulare. Ecco, il cellulare da solo può già fornire delle misure utili all'oculista per appunto monitorare l'evoluzione di una certa patologia? Sì, il cellulare permette di fare una valutazione dell'acuità visiva e una serie di test che abitualmente vengono fatti in laboratorio e quindi attraverso questa modalità il paziente in modo autonomo, sempre su indicazione del medico che prescrive questi test, può fare valutazioni ripetute dell'acuità visiva, verificare la presenza di scotomi o di altri disturbi e quindi completare con queste informazioni il rapporto che ha della visita del paziente. Ecco, ci fa qualche esempio pratico di strumenti già disponibili o che lo stanno per diventare appunto per migliorare la gestione delle patologie appunto oftalmologiche? Allora, per quanto riguarda modalità in Italia, c'è questa di Genova in cui siamo, in cui viene fatta una tomografia ottica del paziente, il paziente si reca in farmacia e in farmacia attraverso l'uso della tecnologia digitale, permette al medico di operare la sua attività, il suo esame a distanza sul paziente che è in farmacia. Per quanto riguarda invece l'utilizzo direttamente di strumenti mobili come il telefono, lo smartphone, non ci sono in Italia ancora test di questo tipo e devo dire che noi abbiamo fatto noi come Davi Digital Medicine un accordo con Polifarma, un'azienda farmaceutica di Roma, per sviluppare un dispositivo digitale di telecontrollo. Questo dispositivo prevede l'uso di un'applicazione, di un'app che gira sul telefono del paziente e che offre quattro test visivi al paziente. Abbiamo già completato, Polifarma ha già completato lo sviluppo del software, adesso il prossimo passo è quello fondamentale per un dispositivo di medicina digitale e cioè la sperimentazione clinica che possa confermare che il test fatto usando il cellulare, lo smartphone, è equivalente come risultato a quello fatto in presenza. Dopodiché si procederà alla certificazione e quindi all'utilizzo della pratica medica. La pratica medica servirà soprattutto per un tema di screening, cioè individuare più precocemente a certe patologie oppure per il manoditoraggio di patologie già presenti, già ben conosciute, di cui si vuole conoscere chiaramente l'evoluzione. Quale delle due? È destinato all'uso del paziente, quindi paziente che ha una patologia e questa patologia viene controllata con maggior periodicità e con maggior frequenza attraverso questo test, questo dispositivo. Come si chiamerà? Il dispositivo si chiama Darsana, il nome ce l'ha già e quanto prima diventerà un dispositivo medico digitale certificato e validato dalla sperimentazione clinica.